Questa associazione che si chiama Amici Senza Frontiere di Fano ci occupiamo nello specifico di alimentare i rapporti che esistono tra la nostra città e le realtà gemellate ma non solo. Abbiamo deciso per celebrare degnamente questo anniversario di organizzare due giorni di appuntamenti, il primo fissato per venerdì di questa settimana. A partire dalle 18.30 ci ritroveremo tutti nella sala riunioni dell'aeroporto di Fano e daremo il là ai festeggiamenti con una sorta di amarcord, parleremo di quello che è stato fatto in questo lungo periodo e poi ci sposteremo di qualche metro nella sala del ristorante Il Barone Rosso, sempre all'interno dell'aeroporto di Fano per la cena. Dopodiché l'appuntamento lo daremo anche per la mattinata successiva perché dalle 10.30 saremo ospiti della sala di rappresentanza della Fondazione Carifano che ci ha dato la possibilità di utilizzare questo splendido spazio che sarà cornice di un evento più di taglio istituzionale. Si parlerà un po' di quelli che sono anche i risvolti dell'attività dei gemellaggi nella nostra città, quindi quello che è l'indotto che si crea quando si entra in contatto con città di altri paesi.